Hi guys and welcome back to my channel. Today we're gonna play... Nonna? Che ci fai tu qui? Tu stupido ragazzino già, pensavi di liberarti facilmente di me? Io, Nonna Sweet 1999, sono tornata e so che tutti quanti mi stavano aspettando. Io sono qua per farti fare un video 100% italiano. Ecco il cazzo che ti lascio fare un video in inglese. Stasera mi lascerai giocare uno dei tuoi strani giochi che... Vanti alzati, non starei più in questa sedia. Tu stai qua che mi fai giocare, ader... Eh, sembra un pochino divertente. Moltissimo, la tua età questo gioco. Ho solo tre vite, in tre vite pensi di riuscire a finire questo gioco? Come si sta concentrando poi. Tu hai un televisore. Tu di Norma che cosa fai con un televisore? Lo guardo. Si, prova. Sonic distrugge il televisore. Ma se le risparmiamo, le vuoi uccidere. Questo è difficile per te. Ah, e mo' dobbiamo andare avanti? Eh, che dia lui. Cosa ti può dire secondo te? Eh, puoi che fare? Devi saltare. Non indietro. E mo'? Allora, questo cos'è secondo te? Un lampione. E un checkpoint. Un trampolino. Eh. Vai. X? Sì, sì, vai avanti con X. Ancora. Non si è questo. Non si uccida. Salta, 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 salta. Boom. Vai adesso per te. La invincibilità è in questo momento. Ma mamma mia. Con l'invincibilità sei morta. Questi giochi, questi cazzi di giochi, che mi piacevano farlo. Well, guys, thank you for watching.